presidente eccoci intervista di fine presentazione come vediamo il palco dietro inizia una nuova stagione ma anzitutto si celebra quella appena conclusa il piatto che ricorda la promozione in superlega per la juasa batteri da qui vorremmo un attimo partire dalla narrazione dal racconto dall'emozione di salire sul palco per un riconoscimento che abbiamo anche visto nelle immagini un applauso di tutta la sala come è stato vedere grotta azzolina protagonista anche quest'oggi inutile dire che ogni volta che si viene qui e davanti a tutti i colleghi vieni premiato è sempre un onore ed è una grossa emozione anche perché è la fine di un percorso la stagione è stata eccellente non semplice ma alla fine abbiamo portato a casa un risultato vivendo soprattutto nelle fasi dei playoff un'emozione veramente forte quindi ecco qui a bologna come ogni anno si celebrano i risultati e quest'anno siamo molto contenti di poter celebrare un risultato senza nulla togliere storico è arrivato anche il momento di scoprire di svelare la nuova stagione abbiamo visto la juasa batteri se la vedrà contro i giganti della pallavolo nazionale l'emozione tua nel vedere grotta azzolina lì scoprire scoprirla di giornata in giornata e soprattutto che calendario sarà secondo te ma allora intanto iniziamo la prima in casa e il derby lube lo abbiamo all'ultima giornata questi sono inizio e fine del percorso che ci avremo quest'anno non possiamo dire nulla dal punto di vista tecnico per noi sarà un campionato molto difficile è ovvio che da matricola proveremo a fare la miglior pallavolo possibile ma siamo consapevoli che per noi sarà difficile tutte le settimane per non per questo ci partiamo sconfitti ma venderemo l'anima e ci impegneremo al massimo per non lasciare nulla di intentato il presidente della cev il presidente delle federazioni italiane pallavolo hanno sottolineato l'alto livello che l'italia porta in generale tante medaglie ma all'alto livello del nostro campionato probabilmente tra i migliori del mondo grotta azzolina e tra queste squadre ecco anche lì è stato probabilmente un altro momento di grande emozione ma questo magari non aiuta avere il più bel campionato del mondo tu ci arrivi da matricola però è anche stimolante perché comunque ti mette in condizione di misurarti con il top al mondo e questo io credo che nel pubblico stia già creando tanto entusiasmo di sicuro noi dirigenti stiamo a livello di entusiasmo siamo molto molto alti e non vediamo l'ora di iniziare grazie bocca al lupo vive il lupo